Il giorno è pericoloso, è pericoloso, ci sono macchine, ci sono tante cose che fanno danno all'abitazione, è giusto, lasciare le cose raccossine. Mi hanno detto che entro ieri oppure oggi dovevano venire a levare questa legna perché è pericolo, dipende il fuoco, anche l'abitazione, le case qui. Stavattina ho parlato pure con l'abriolo, dice ora ci ho fatto io e ci ho parlato io, ma non c'era una vista nuda ancora, perché qualche ragazzo cercava una sigaretta, ci troviamo a posto di mare. Da quanto tempo c'è questa svegliazza? Attorno a 8 giorni ora. 8-10 giorni, 10 giorni, la potatura e cose, 10 giorni. Non funziona niente, non funziona. Funziona solo che i ragazzi che ha sinergia in mezzo con le macchine sopra due ruote, girano, non si capisce niente, la persona sta male, la mamma ci sta male e assorbisce tutti questi rumori. Qua ogni sera è pericolo perché ci sono delle macchine che fanno rally, poi di notte qua non è controllato, c'è di tutto e di più, c'è di tutto e di più. Ci sono ragazzi pure che spazio qua, non c'è nudo che controlla, non c'è nessuno che controlla, ci vorrebbe solo un po' più di controllo, perché è una villa che può essere bellissima. Ci vuole solo abbandonata, ci vuole solo un po' più di controllo.